L'avvocato com'è? Sconvolto per te Scioccato, scioccato, scioccato Tutti la mia documentazione Io ho degli documenti E' un avvocato marcatale E tu e' stato? Sì, io ho un messaggio per me Scritto in una carta così Io lo so, sono una segna E' stato un unifico Non lo so, mi ha detto, non parlare di questo Dai, sono il biglietto Io con quello che sta succedendo Ci do solo un consiglio Non ti potratti Ma tu lo stai seguendo? Che sta succedendo? Che cosa ha iniziato lui? Stratto? Sono guardato a vista Marcello, io non voglio più incontrare Graziano Io non capisco, non riesco a capire Com'è che tu te li incontri? Marcello, andiamo a finire tutti in galera Dice che Un momento dell'arresto Avrebbe detto Un'altra città Cercato Un'altra città Un'altra città Un'altra città Un studio A 300 metri Dalla famosa via libertà Che si è prestato A comprare appartamenti Per riciclare e dare a loro soldi Con un altro compito Il pagamento come è stato? Cacciato con assegni assegni circolari che loro avevano utilizzati anche per la transazione a Stacco di Sicilia. Quando scoprono che qualcuno di questi assegni è stato richiesto dagli assegni stessi. Da chi? Posso contestare il reciclaggio di infestazione dittizia? Probabilmente più che il reciclaggio ti contestano l'infestazione dittizia. Ok? L'infestazione dittizia è aggravata all'articolo 7. Lui fa riferimento a un boss, quindi lui fa riferimento a Vincenzo Graziani.